La data di realizzazione è 1474 e la firma di Antonello da Messina sul San Girolamo nello studio, quei riferimenti che il grande artista avrebbe lasciato sul dipinto, sfidando l'osservatore a scoprirli e continuano a suscitare grande interesse nel mondo culturale dopo le intuizioni di Carmelo Michelizzi. Le teorie che stanno alimentando il dibattito tra gli studiosi del genio messinese della pittura sono ora pubblicati in un volume, edizioni di Nicolò, dal titolo San Girolamo nello specchio, riflessioni su Antonio De Antonio, presentato ieri in una libreria di Messina. Secondo Michelizzi, la lettura speculare dell'opera, in particolare del pavimento, dell'ambiente e del dipinto, rivelerebbe particolari da più di 500 anni sfuggite alle semplici osservazioni. Non solo il nome e la firma, ma anche diversi riferimenti alla città di Messina e all'identità del soggetto ritratto al centro della scena che, secondo Michelizzi e Nicolo Cusano. I percorsi delle scoperte di Michelizzi sono tutti illustrati nel libro, con il quale tutti gli studiosi di Antonello dovranno adesso confrontarsi.